Romana Pirillo Romana, cambiando pagina adesso, una nuova gioia a livello giovanile che torna vittoriosa, un movimento giovanile comunque sempre in crescita anche per la nuova gioia? Ma sempre noi continuiamo quello che è il nostro obiettivo, abbiamo fatto questo torneo a Firenze dove hanno partecipato squadre come Torino, Brescia, Siena, Bologna, San Casciano, adesso tutte non me le ricordo, Ponte Vecchio eccetera. Abbiamo vinto, siamo arrivati in finale, sono state partite combattute, tutte partite fatte con grande intensità che a Reggio Calabria purtroppo questa intensità non c'è, non c'è questo giocare con le mani addosso anche perché se ti mettono le mani addosso qua gli abiti fischiano. Comunque partite tirate punto a punto, la finale abbiamo vinto a punto di 8 contro la padrona di casa Firenze e stranamente tutto il pubblico era con noi.